Roma, rima internazionale ufficiale del baseball italiano, avversario gli spagnoli favoriti dal pronostico, ma gli azzurri non cederanno chi alla distanza, sorridente Gregory Peck dall'avvio all'incontro. Nel primo dei nove tempi gli italiani elimineranno i tre battitori avversari grazie agli abili lanci di Glorioso e passati a loro volta la battuta vanno in vantaggio. Lancia Decerra e i nostri conquistano successivamente prima, seconda, terza e quarta base. L'applauso di Gregory sottolinea la bravura degli azzurri, ma al quarto tempo frana il nostro dispositivo di difesa. I battitori spagnoli proteggono le volate dei compagni da una base all'altra. Ecco Casals che pareggia e via via gli altri che giungono persino senza fretta alla casa base. A 4 a 1 la vittoria dei rossi appare certa. Tuttavia proprio in questo quarto tempo gli azzurri raggiungono il massimo del rendimento. Ottengono due punti. Ecco il secondo, terzo per l'Italia segnato da Marcucci. E sfioreranno il pareggio. Alla fine gli spagnoli vincitori per 7 a 3 sono cordialmente complimentati dagli sconfitti. Questo è sport. grande.